Diciamo che Palermo ha già tre centri commerciali dentro la città. Palermo non ha bisogno di un nuovo centro commerciale. Palermo ha bisogno semmai di investimenti, di aprire investimenti, quello sì, ma gli investimenti che non tolgano già lavoro a chi ce l'ha, non tolgano alle imprese già esistenti, ma creino nuove opportunità di lavoro. Non è il caso di un nuovo centro commerciale. Noi abbiamo bisogno semmai di valorizzare tutto quello che abbiamo, di valorizzare i centri commerciali naturali, dando loro servizi, parcheggi, opportunità di sicurezza e sicuramente non nuovi centri commerciali. Questa cosa per noi non passerà mai.